Ciao, non vogliamo dedicare questo concerto a posti come Kukuk o al virus che sono stati chiusi, erano posti dove si cercava di fare l'autogestione, di portare avanti un discorso di cultura alternativa, qualcosa di diverso dalla merda che si dà tutti i giorni col commercio. Se il gruppo di oggi, pensate a il gruppo che è stato fatto, pensate a il virus in Milano, un'altro centro che è stato fatto, pensate a che ci sono ancora molti di soli centri, dove possiamo fare la cultura, dove possiamo fare la cultura, dove possiamo fare la vita. Faianco Senza pensare Senza pensare Vedi che ti avvicina la tua vita Senza pensare Tu ti partila il sono detto Senza pensare Che aiuta brandona il tuo ero Senza pensare Senza pensare Ci dà un testo tirando Quasi a tirare dagli altri E la loro comunità No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no